Antonio Cirillo, l'avvocato come segretario Un grande partito che riprenderà in mano il Paese. Sono le parole dell'avvocato Antonio Cirillo, di recente eletto segretario nazionale della democrazia cristiana in occasione del XIX Congresso Nazionale tenutosi a Roma. Presenta anche il sindaco della città di Torre del Greco, Giovanni Palomba. È rinata la democrazia cristiana. A distanza di 30 anni incominciamo a lavorare nuovamente. Da un periodo buio di tristezza della politica italiana dobbiamo incominciare con le forze dei giovani, delle donne, mettendoci tutti sotto al braccio. Dobbiamo essere forti, uniti, secondo i valori che ci ha dato De Gasperi. Dobbiamo incominciare a partire dall'anno zero. C'è lo sviluppo di tutto, della cultura, degli interessi delle persone. Si cerca soltanto di passare avanti giorno per giorno, di sopravvivere. Noi vogliamo riprogettare la vita degli italiani, partendo dalla politica, dall'economia, dal sociale. Le nuove regole che devono essere riscritte nuovamente. Noi ci crediamo, ritorneremo grandi. Un grande partito che riprenderà per mano il paese. Una giornata storica per noi, perché abbiamo fatto rinascere un partito che era finito nelle ceneri da 30 anni e forse più. Ringrazio tutti quelli che hanno fatto questo sforzo per ridare vita alla democrazia cristiana, un partito che deve ridare fiducia alla gente e dignità alla politica. Dignità alla politica.